Demi Lovato Demi Lovato, effetto cintura sexy per mettere in risalto il décolleté Demi Lovato è una bomba sexy mentre presenta il suo nuovo album, Tell me you love me, con un sorriso che le illumina gli occhi e lo sguardo pieno di stelle. A completare questa sensazione di potenza ci pensa una pelle baciata dal sole, e dall'illuminante per il corpo, e un abito che la strizza al punto giusto. Demi Lovato, sempre più donna. Sull'immagine pubblica di Demi Lovato lavorano parecchie persone, e il risultato è un vero e proprio successo. Lei, che ha appena rilasciato il suo sesto album studio Tell me you love me, non è mai stata più single, più sana, più bella e più felice di così. Il suo look promozionale ha dato prova che un vestito midi può essere la componente sexy che manca al nostro guardaroba. L'abito senza spalle ha uno scollo molto sobrio, reso però accattivante da una serie di fascette effetto cintura che stringono forte il décolleté e mettono in pieno risalto le sue forme piene e, soprattutto, muscolose. Anche il suo beauty look è fresco, naturale e modernissimo. Capello moro a onde, orrecchini a cerchio e ma che ha pochi pensato apposta per creare uno sguardo killer e penetrante. Il vestito è impreziosito da una maleziosa cerniera allacciata esclusivamente dove risulta necessario, e oltre al sandalo argentato gioca un ruolo fondamentale la sua pelle dorata, resa preziosa da una spolverata di illuminante che la fa brillare come una stella. A renderla sicura come una leonessa, ci pensano anche le difficoltà del suo passato, che l'hanno portata dov'è, orgogliosa di essere ciò che è diventata. Tutto per sua sorella. Nel corso dell'intervista al The Jonathan Ross Show, Demi Lovato ha candidamente raccontato al pubblico del momento più basso della sua vita, e del punto di svolta che ha portato il cambiamento necessario. Demi ha capito di aver bisogno di aiuto per tornare sobra quando i suoi genitori le hanno proibito di passare del tempo con la sua sorellina, Madison de la Garza. Senza farne mistero o fonte di vergogna, la cantante ha parlato dei suoi vecchi problemi di alcol, droga e depressione affinché tutti coloro che stanno attraversando un periodo difficile trovino la forza di risollevarsi. Ho attraversato tempi molto difficili, e sono passata per la riabilitazione per via di alcuni problemi. Spero che la mia storia possa aiutare qualcuno che sta vivendo quello che ho vissuto io. Avevo una famiglia, amici fedeli e il mio manager, tutti erano dalla mia parte e mi hanno aiutata a superare le difficoltà. Senza di loro, non sarei qui. Anche i miei fan mi hanno dato la forza necessaria per andare avanti. Ma prima di riprendermi, ho dovuto toccare il fondo. Ci sono stati alcuni episodi determinanti, ma soprattutto uno, in cui mi è stato detto che avevano intenzione di andarsene. A quel punto, Demi ha capito che aveva bisogno di aiuto, o sarebbe rimasta sola per davvero, in quel momento mi sono resa conto che dovevo essere aiutata. Avevo toccato il fondo, ma sapevo di dover fare qualcosa. Ero consapevole di avere ancora tanto per cui vivere, ma tutto quello che mi importava era di poter rivedere mia sorella. Se non fossi rinsavita, i miei me lo avrebbero impedito. Ero consapevole di avere ancora tanto per cui vivere, ma tutto quello che mi importava era di poter rivedere.